Entrare nei nuovi mercati digitali, accedere alle ultime tecnologie, investire, rendere più efficiente la struttura organizzativa. Tutto ha portato anche delle piccole imprese grazie a CNA Smart Club, un'iniziativa presentata questa mattina durante un evento organizzato dalla CNA dell'Ario della Brianza e di Varese Ticino Olona a Lomazzo nella sede di Comonext. È una società che deve aiutare sicuramente le start-up che vanno a nascere e le start-up innovative, per cui anche società che in questo momento sono sul mercato, che hanno bisogno di nuovi servizi molto professionali, stiamo facendo crescere all'interno di questa società le figure che possono dare questi aiuti che altrimenti le imprese non riescono ad avere. Quello che andiamo a fare come società è di aiutarle a fare il settore formativo e il settore anche economico, per cui questa società nasce proprio per aiutarle, perché è talmente vasto il sistema che non possono da sole arrivare a raggiungere questi risultati. L'obiettivo, come sottolineato anche dal direttore di CNA Smart Club Bruno Chinalia, è di coinvolgere almeno 200 aziende nei prossimi 5 anni. Hanno la possibilità di interconnettersi con noi per tutti i servizi, le strumentazioni e anche il know-how che in questi anni abbiamo realizzato. E questo è a servizio del territorio, territorio inteso anche molto ampio, quindi non solo Comasco ma anche Lombardo, come la loro vocazione mi sembra espansiva anche verso Varese, Lavrianza, Lecchese. Noi ci siamo e ci siamo mettendo a disposizione non solo le strutture ma, dicevo, anche l'esperienza e quindi la formazione di alto profilo. E quando parlo formazione intendo sui temi della digitalizzazione, intelligenza artificiale, robotica, tutti ambiti dove noi siamo dotati di laboratori specifici. e quindi c'è la possibilità non solo di un'educazione e formazione teorica ma anche estremamente concreta.